Delia Durana Domenica Live, la nuova fidanzata di Alex Belli e ospite di Barbara D'Urso per parlare della sua relazione con l'attore Ma coglierà anche l'occasione per rispondere a Mila Suarez, che nelle scorse settimane aveva accusato l'ex fidanzato di averla abbandonata improvvisamente e senza una valida ragione Ero molto innamorata di Alex. Le liti con lui sono iniziate quando ha iniziato a sparire di casa all'improvviso, anche per un giorno Io lo cercavo ovunque. A fuse simili a quelle che aveva lanciato tempo prima l'ex moglie dell'attore, Katarina Raniacova Ma Alex Belli si è sempre difeso, anche nello studio di Domenica Live da Barbara D'Urso Io credo nell'amore. Quando ci siamo lasciati non c'era nessuno, ci siamo lasciati perché non eravamo compatibili, la sua replica Ora intervieni Delya Duran, il suo nuovo amore. Un amore che inizialmente aveva provato a tenere nascosto Ci stiamo conoscendo, si limitava a dire l'attore. Ma le ultime paparazzate non hanno lasciato ombra ai dubbi Delya Duran contro Mila Suarez Domenica Live.Alex Belli e Delya Duran sono una coppia A ufficializzare la love story è stato il settimanale Spy, che ha fotografato l'ex attore di Cento Vetrine ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi con la modella e attrice di origini venezuelane I due sono stati paparazzati prima a cena e poi in un hotel di Roma, dove hanno trascorso la notte insieme Il primo incontro comunque risale al 2017, quando si sono conosciuti sul set della Fiction Furore 2 All'epoca non nacque nulla, fino a quando non si sono rivisti di recente e sono stati travolti dalla passione Archiviata Mila Suarez, c'è Delya Duran ora per Alex Belli. I due preferivano non parlare troppo della loro relazione nata qualche mese fa, ma oggi la modella sudamericana sarà a Domenica Live per rispondere alle pesanti accuse che Mila Suarez ha lanciato al suo fidanzato e a lei Su Google ho letto che ha una condanna, aveva dichiarato. E quindi Delya Duran è pronta a rispondere e a fare chiarezza su questa vicenda Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like